Chi lascerà Isola dei Famosi? Le ultime nominations convolgenti. Tensione e drammi sull'Isola dei Famosi, Luxuria contro Benigno, e l'addio di Marina Suma. Il clima sull'Isola dei Famosi si infiamma, tra polemiche, nomination e l'addio di Marina Suma, mentre il confronto tra Vladimir Luxuria e Francesco Benigno raggiunge il culmine della tensione. Dopo un'eliminazione avvenuta nel pieno delle polemiche, Marina Suma lascia l'Honduras, condannata dal televoto dell'ultima puntata. L'Isola dei Famosi 2024 ha fatto ritorno sullo schermo lunedì 13 maggio, per poi spostarsi al giorno di domenica. Ma l'atmosfera è carica di tensione, soprattutto dopo le accuse e gli insulti pesanti lanciati da Francesco Benigno nei confronti di Vladimir Luxuria, che continua a far parlare di sé non solo per le dinamiche del gioco, ma anche per la sua risposta decisa alle provocazioni. La conduttrice, conscia delle critiche che possono giungere nel mondo della televisione, ha preso una posizione ferma contro gli insulti. Caro signor Benigno, gli insulti non sono accettabili. Ho 58 anni e ne ho sentiti molti nella mia vita. Ho sviluppato una corazza, ma certe offese ancora feriscono. Ho deciso di non farci l'abitudine, di reagire ogni volta. Lo faccio per me, per le persone care, e per tutti coloro che credono nel rispetto e nella civiltà, ha dichiarato Luxuria. Ma la vita sull'isola dei famosi prosegue, nonostante le controversie. Oggi, la puntata prevede l'uscita di uno dei naufraghi rimasti. Dopo Luce Caponegro, Maite Ianes e Sonni Olumati, è stato il turno di Marina Suma di abbandonare l'avventura onduregna, lasciando sulle spiagge di Caios Cochinos solamente 12 concorrenti. E con le nomination arriva l'ansia per i naufraghi restanti. Arthur Dainese, Rosanna Lodi e Samuel Perón sono i tre a rischio eliminazione, dopo la perdita di immunità di Samuel nella sfida con Greta. Il televoto è il loro unico giudice, e secondo i sondaggi di Forum Free, Rosanna sembra essere in bilico sul baratro dell'eliminazione. Con l'isola dei famosi che si prepara a salutare un altro dei suoi protagonisti, l'attenzione è alta e le sorprese non mancheranno. Resta solo da vedere chi sarà il prossimo a dover prendere le proprie cose e lasciare l'Honduras, mentre il confronto tra Luxuria e Benigno continua a tenere incollati gli spettatori di questa vincente edizione.L'emozione e la tensione continuano a crescere nell'isola dei famosi 2024, con tre naufraghi in bilico sulla sottile linea tra permanenza e addio. Arthur Dainese, Rosanna Lodi e Samuel Perón si preparano a fronteggiare il verdetto del pubblico, che con il televoto deciderà il loro destino. La competizione è serrata, e ogni mossa può fare la differenza. Secondo i sondaggi di Forum Free, Rosanna Lodi sembra essere la concorrente più a rischio, con il 29,44% delle preferenze, mentre Samuel Perón e Arthur Dainese si contendono i voti del pubblico con il 36,67% e il 33,89% rispettivamente. Tuttavia, la situazione resta incerta, poiché Rosanna, nell'ultima sfida, era risultata la preferita con il 34% dei voti. Questo dimostra quanto sia imprevedibile il gioco e come ogni momento possa capovolgere le sorti dei concorrenti. Scandalo all'Isola dei Famosi, Edoardo Stoppa perde le staffe e lancia accuse pesanti. Nel cuore dell'avventura all'Isola dei Famosi, uno degli eventi più controversi ha scatenato l'ira di Edoardo Stoppa, portando la tensione nel reality a livelli mai visti prima. L'episodio incriminato è scaturito dall'infrazione del regolamento da parte di alcuni naufraghi, il cui impatto ha mandato su tutte le furie l'inviato di Striscia la notizia. Una grave violazione delle norme del programma è stata rilevata dagli occhi vigili dei responsabili dell'Isola dei Famosi, causando una reazione sdegnata da parte di Stoppa, ormai stanco di fronteggiare situazioni simili. La sua frustrazione ha trovato espressione diretta in un acceso confronto con una sua compagna di avventura, ritenuta colpevole dell'errore commesso. Il detonatore di questa furia è stato il momento in cui la produzione ha reso nota ai concorrenti l'infrazione commessa. Greta Zuccarelli, appena informata dell'accaduto, ha espresso il proprio dissenso riguardo alla reazione esagerata di Stoppa, il quale ha puntato il dito contro Valentina Vezzali in maniera brutale, accusandola di aver compromesso il gruppo con la sua azione. La causa del contendere risiede nel fatto che Valentina Vezzali, durante il daytime del 13 maggio, ha intrattenuto conversazioni con membri della squadra rossa al di fuori degli orari consentiti, infrangendo così le regole stabilite. Questo gesto ha scatenato l'ira di Stoppa, il quale ha rivolto a Vezzali pesanti accuse, sottolineando la gravità delle conseguenze che tale comportamento ha comportato per l'intero gruppo. In risposta alle azioni illecite, il Team Blue è stato penalizzato con il divieto di accendere il fuoco per 48 ore, il che ha inevitabilmente peggiorato le condizioni di vita dei concorrenti. Questo provvedimento ha ulteriormente infiammato gli animi già tesi, preannunciando possibili scontri futuri durante la diretta del programma. L'escalation di tensioni e accuse all'Isola dei Famosi rappresenta un punto di svolta nell'avventura dei naufraghi, evidenziando la fragilità delle alleanze e la costante minaccia che rappresentano le violazioni del regolamento. Il confronto tra Edoardo Stoppa e Valentina Vezzali potrebbe rimanere nel ricordo degli spettatori come uno dei momenti più intensi e controversi della storia del programma. La tensione, che già si respirava nell'aria dell'Isola dei Famosi, ha raggiunto il suo apice con questo scontro. I naufraghi, già messi a dura prova dalle condizioni di vita estreme, ora devono anche fare i conti con le dinamiche interne sempre più esplosive. La decisione della produzione di punire il Team Blue con il divieto di accendere il fuoco per 48 ore ha avuto ripercussioni pesanti sulla sopravvivenza quotidiana dei concorrenti, aumentando il malcontento generale.